in cucina abbiamo comprato un frigorifero nuovo è un top di gamma, mantiene il cibo fresco per più tempo, raffredda uniformemente, insomma è bello dai ma da qualche giorno c'è un problema, fa un rumore strano che non riesco a non considerare soprattutto quando mangio da solo ho provato a eliminare il rumore in qualsiasi modo, ho staccato la corrente, ho messo uno spazio fra frigorifero e il pavimento, ma nulla, ora il problema è un altro, il rumore si è espanso per tutta la casa, in camera mia, nel mio ufficio e ciò che veramente ora mi tormenta e che il mio coinquilino non sente nulla, per lui questo rumore non esiste e perciò se ne sta tranquillo per i fatti suoi, facendo finta che davvero non ci sia era una presa in giro che non potevo tollerare e così me ne sono sbarazzato ora il rumore non c'è più ora il rumore non c'è più